Una cosa di, forse un po' inedito, ma che può fare presa sul pubblico, della gente. Diciamo che Teleton è sempre stata vicina al mondo del nostro porto e BNL ancora di più, come è dimostrato ampiamente, è un mondo del tennis, per cui cerchiamo di non mancare mai ai grandi appuntamenti, specie quando appunto il nome della banca può legarsi al mondo della solidarietà e delle donazioni. In effetti il patteneraggio che abbiamo con il CRAS già da qualche mese ha dato la possibilità di diffondere intanto la dottrina di Teleton, che è quella della donazione, quella della solidarietà e quella di collaborare tutti quanti, avendo un unico obiettivo che è appunto quello di sovvenzionare la ricerca genetica. Sono 21 anni che BNL collabora con Teleton e quando parlo di BNL parlo di tutti i dipendenti, di tutti quanti noi quindi che collaboriamo nello spirito della donazione, perché donare è importante non soltanto perché facciamo qualcosa per gli altri, ma soprattutto perché facciamo qualcosa per noi stessi. Perfetto, grazie mille.